Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Amauris Perez è il terzo eliminato del Grande Fratello Bip 2022. Il cubano ed ex campione olimpico di pallanuoto ha, infatti, perso al televoto contro Pamela Prati, George Chupilan e Jaele De Dona ed è dovuto uscire definitivamente dalla porta rossa del Grande Fratello Bip. Amauris, noto al pubblico per il suo fisico statuario e le sue medaglie conquistate nella fiscina della pallanuoto, è stato tra i protagonisti di questa edizione del GF Bip portando sul piccolo schermo di Canale 5 i suoi valori, l'amore per i suoi figli e la sua moglie, la sua storia familiare fatta di grandi imprese sportive ma anche povertà e dolore. Tra i suoi momenti più discussi durante il suo percorso del Grande Fratello Bip c'è stato il suo furibondo litigio con Charlie Gnocchi dove il pallanuotista ha alzato la voce lasciandosi andare a un momento di forte rabbia ma anche la sua bestemmia e i suoi svariati scatti dita. Tra i momenti più belli, invece, il dolcissimo incontro con la moglie Angela. Queste le sue prime parole dopo l'eliminazione, sono felicissimo. Lo avevo chiesto io, sono felice di poter tornare a casa dai miei figli. Chi è Amauris Perez, dalle imprese sportive alla vita privata. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.